E' tornata anche quest'anno a Città di Castello la tradizionale festa del Garofano, presso la fontana del Boschetto che è stata confermata come luogo per questa manifestazione con tanta musica, balli, da mangiare e da bere con pochissimi discorsi politici. Insomma, una giornata di festa. E' una nostra tradizione, la facevamo a Dugerno, in campagna, quando ancora eravamo più vicini ai braccianti, ai contadini. Oggi il mondo è cambiato e l'abbiamo fatta qui. Però è una tradizione che abbiamo ripreso dopo diversi anni che non la facevamo più. Oramai è tre anni che la facevamo e continueremo a farla anche perché, io dico la verità, io personalmente ho rivisto tanti vecchi compagni, e io credo che ci rivedo, rivedo una volta l'altra. E penso che sia giusto farla, rivedersi, rincontrarsi e riguardarsi anche i tempi passati. Anche perché hai fatto vera di guardare che a questo abbiamo sempre posizionato. Questa è la zona dove ancora ci sono le cerre qui in Garofa, in altre parti ci sono le schimpate qui, qui ancora resistiamo. Dobbiamo ancora di resistere in alto qua e incontrarsi così in quale azienda. Questa è la peste a tutti, nessuno chiede niente a nessuno. Credo che donare un Garofa alle persone che vengono qui, ai compagni e ai non compagni, agli amici, è un segno di dire ecco, noi siamo socialisti, siamo qui, abbiamo nella nostra storia tanti errori, tante cose non fatte bene, ma credo che complessivamente abbiamo sempre rispettato la libertà di tutti, la democrazia di tutti, e bene o male possiamo sentirsi fiere.